Amici bentornati sul canale del mio giri elaborazione autosportive. Avete una qualunque macchina, una polo, una qualunque macchina e non siete soddisfatti della luminosità che producono i fari di sera, avete un po' di problemi di visibilità di sera, seguite il video così vi insegniamo qualche piccolo trucco per migliorare. Sigla! Quindi come dicevamo, questo è un lavoro veramente molto molto banale per i nostri standard, mi ha fatto lavori veramente molto molto più complessi, però noi diamo retta a tutti i clienti, qualunque cliente che ci chiama, certo uno che viene qua a gonfiare le gomme diventa magari problematico, però uno che ci chiede di sistemarli, di migliorarli in illuminazione, è un lavoro veramente per noi molto banale e assolutamente lo accontentiamo. Essendo poi un piccolo lavoro, un piccolo upgrade che non abbiamo mai commentato, mi sembrava logico appunto fare una puntata anche solo sul discorso delle lampadine a led. Quindi venendo a questa macchina, questa è una polo non recentissima, ma neanche vecchissima, che aveva montato le classiche lampadine alogene. Le lampadine alogene sono quelle con il filamento, tanto per intenderci. E ovviamente la luminosità è una luminosità giallognola, di sera ogni tanto lampadine di questo genere non fanno una luminosità soddisfacente. Quindi adesso ci sono macchine d'ultima generazione, fanno illuminazioni fare di tutti i tipi, a matrice ottica, a led, veramente di tutti i colori. Fino a un po' di anni fa l'alternativa erano gli impianti all'oxeno, quindi a scarica di gas rispetto alle alogene, e successivamente, sempre in economia, le lampadine che vanno a sostituirsi però a led. Quindi in questo caso il faro, la carcassa del faro è rimasta esattamente la stessa. Abbiamo unicamente verificato il tipo di attacco della lampadina, che in questo caso è un H7, quindi abbiamo sostituito, abbiamo consigliato al cliente di cominciare a fare il lavoro unicamente sugli anabaglianti, quindi abbiamo sostituito le due lampadine anabaglianti con due lampadine a led perfettamente compatibili. E per chiudere la parte estetica abbiamo sostituito sempre a led anche le due lampadine di posizione. Mi scuso se con l'audio abbiamo qualche problema, ma essendo vicino all'inate purtroppo ogni 30 secondi passa un aereo, quindi portate pazienza. Io direi a questo punto di accendere la macchina, far vedere appunto il risultato finale, purtroppo non vi potevo far vedere il risultato iniziale perché è per questione di tempo. Comunque, ecco, tanto per fare un esempio, io vi faccio andare agli abbaglianti, che sono questi, quindi come vedete la luce precedente era gialla, come vedete sugli abbaglianti, e la luce attuale è diventato bianco ghiaccio e ha una luminosità in termini di lumen molto superiore. Per cui il consiglio, visto che non costano tantissimo, ma non costano neanche come un paio di lampadine halogene ovviamente, allora siccome gli abbaglianti si usano in maniera molto molto più rara rispetto agli anabaglianti, ben detto al cliente, cominciamo a fare la parte importante, cioè anabaglianti esteticamente le posizioni, poi eventualmente in un secondo momento andremo a fare anche gli abbaglianti. Direi che appunto è un piccolo lavoro, che però al di là di un discorso di estetica va a toccare anche una parte di sicurezza, che per noi è assolutamente importante, noi ci teniamo a fare i lavori per migliorare le macchine, migliorare le prestazioni, migliorare gli assetti, migliorare gli impianti frenati, ma tante volte anche per migliorare la semplice sicurezza, anche l'estetica, quello che vogliamo. Quindi lavori anche se vogliamo piccoli, banali come questi, secondo me sono comunque da far vedere, fare magari una tantum, un video dedicato. Io spero che questo video vi sia interessato, per qualunque informazione sapete esattamente dove trovarmi, come al solito cliccate sulla campanella in basso a sinistra, che è gratuita, non costa nulla, iscrivetevi al canale in maniera tale da rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima! Ciao a tutti! Grazie.